Buongiorno, bentornati a Leoni Files, il podcast dell'Istituto Bruno Leoni. Oggi un podcast straordinario, eccezionale. Con noi c'è il professor Sabino Cassese, che naturalmente non ha bisogno di presentazioni e che prima di iniziare la registrazione ci sottolineava che è vero sì che è un podcast, ma è anche un podcast che va online sul canale YouTube. Quindi benvenuti al podcast allargato, d'ora in poi lo presenteremo così, il nostro Leoni Files. Saluto con gratitudine, cordialità e stima naturalmente il professor Sabino Cassese e benvenuto alle nostre chiacchierate. Professore, inizio subito dal vivo. Parliamo di pubblica amministrazione, riforma della pubblica amministrazione, semplificazione della pubblica amministrazione che a me personalmente è una parola che fa venire un po' i brividi e ne parliamo da tanti anni. Ora ne parliamo in termini stringenti, nel senso che è una di quelle cose che dobbiamo fare per poter spendere i soldi che arriveranno dall'Unione Europea. Però con tutti questi soldi che ci sono in gioco, io mi chiedo e le chiedo se basta un superuomo come Mario Draghi per fare quello che fino adesso non sei riusciti a fare. E se invece, su questo la volevo sollecitare fin dall'inizio, e se invece finché parliamo di semplificazione o rendere più semplice la pubblica amministrazione, sburocratizzazione come vuole lei, in termini monolitici non usciamo dal guado e se non sia invece l'occasione per iniziare a ragionare delle tante pubbliche amministrazioni che esistono in Italia, delle tante branche di diritto amministrativo che esistono in Italia, per poter affrontare concretamente e col pragmatismo che sembra contrassegnare il Presidente del Consiglio appena nominato. Io penso che bisogna distinguere cause esterne e cause interne del malfunzionamento dell'amministrazione. Se non si fa questa distinzione, si corre il pericolo di fare tutta l'erba un fascio. Del cattivo funzionamento della pubblica amministrazione oggi è per una buona metà responsabile un Parlamento che legiferando molto, stabilendo responsabilità eccessive, prevedendo controlli preventivi, sostanzialmente costituisce un freno all'attività amministrativa. Questa è la prima causa, poi la possiamo approfondire, ma certamente la causa è esterna. Poi c'è la causa interna, ed è la qualità del personale e il modo in cui sono disegnati i processi di decisione. La qualità del personale, perché si può, come dire, con grande stupore notare se si vede il livello di studi del personale pubblico, sto parlando quindi di 3 milioni e mezzo di persone, IVI inclusi gli insegnanti, solo un terzo ha un titolo di studio universitario. Per capire, per fare una differenza, circa due terzi dei parlamentari invece hanno un titolo di studio universitario. E ho detto compresi gli insegnanti, perché ovviamente nel campo degli insegnanti siamo quasi al 90%. Quindi, la verità è che questo è un indicatore, da un lato, dello scarso livello del personale e dall'altro della scarsa qualità della funzione amministrativa, perché non ci può che essere una corrispondenza tra i due elementi, qualità del personale e titolo di studio e qualità del lavoro che viene svolto. A questo si aggiunge quella malattia che è stata inoculata, perché è stata proprio inoculata nell'amministrazione, che chiamiamo spoil system. Questo è un virus che è stato introdotto e che ha avuto molte mutazioni, molte di più delle mutazioni del Covid-19, perché in realtà esistono una ventina di specie di spoil system e queste specie hanno introdotto un virus gravissimo, cioè hanno rotto il principio costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione. Un'amministrazione neutrale. Come si fa a pensare che sia un'amministrazione neutrale? Non sto parlando dei ministeri, dove è tanto più facile. Un'amministrazione neutrale è l'amministrazione che vi posso dire sanitaria. Se il vertice è inoculato dalla politica, è scelto sulla base di criteri politici e se poi naturalmente questi si espandono al di sotto. Che volete? L'assunzione degli infermieri, dei portantini, dei barellieri, negli ospedali, nelle strutture pubbliche, che non sia influenzata da questo. E d'altra parte perché, secondo voi, le regioni terrebbero tanto avere il controllo sulla sanità, un disastro come quello che abbiamo vissuto? Per il semplice fatto che la sanità costituisce il due terzi della finanza regionale e il cento per cento del potere di influenza politica della classe politica. Questi sono i malesseri della pubblica amministrazione italiana. Poi si aggiungono tante altre cose, il fatto che nessuno si preoccupa mai, per esempio, dell'incentivazione del lavoro. Le motivazioni lavorative sono determinate in qualunque posto da un sistema di accelerazione di carriera, di premi, di incentivazioni pecuniarie, retributive e così via. E tutto questo è inesistente nell'amministrazione. Tutti sono sempre ottimi. Ecco, professore, su questo io volevo, occupandomi di imprese, eppure avendo in uggia, devo dire, quelle assimilazioni proprio fra la pubblica amministrazione e l'impresa, le ho sempre trovate riduttive e purtroppo non adeguate, nel senso che lo Stato deve fare lo Stato e l'impresa deve fare l'impresa. Ecco, ma viviamo sempre questi problemi, lo vediamo. A me sembra che poi in quei posti dove si sia introdotto un minimo di incentivo alla carriera, penso all'università con tutti i suoi difetti, però fino all'ultimo gradino, bene o male, i professori cercano di progredire e migliorare. Ecco, le soluzioni in termini di, da un punto di vista proprio della dottrina, in qualche modo, della teoria economica, c'è spazio per introdurre delle riforme che guardino agli incentivi o quegli strumenti ci sono già e c'è un problema di sindacati, di parti sociali e di lobby di potere? Cioè noi possiamo sperare che non serva chissà che come riforma della pubblica amministrazione, ma magari convincere i gruppi di interesse a far lavorare quello che già c'è in termini di normative. Scusami, accodo perché aggiungo un altro dubbio, se oltre a una questione di forza negoziale delle parti c'è anche un problema, come si dice, fisiologico, nel senso che gli incentivi funzionano quando chi li deve distribuire ci mette le sue risorse, altrimenti rischia, come di fatto è, di essere una selezione avversa dove in realtà i dirigenti agiscono difensivamente, li distribuiscono in maniera uguale, ugualitaria, non dovendoci mettere dell'oro e non dovendo così poi avere responsabilità di alcun tipo. Però questa è una questione, diciamo, fisiologica del metodo, del sistema di reclutamento e di carriera anche all'interno della pubblica amministrazione che è costituzionalmente diverso rispetto al mercato del lavoro. Provo a rispondere a due domande. Alla prima domanda, il sistema dei vincoli è in larga misura determinato dalle politiche sindacali, quindi è difficile distinguere il vincolo che esiste nella legge e quello che viene, come dire, determinato di fatto dalla pressione dei sindacati. Comincio da quest'ultima. I sindacati, come voi sapete, nel campo del pubblico impiego la CGL non esisteva. Era presente la CISL e in piccola parte la UIL, poi c'erano dei sindacati di singole categorie, vedi, di IRSTAT. Quando entrò in ballo la CGL, sto parlando degli anni 70, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro era molto motivata con problemi con finalità di riforma e, diciamo, vi erano molte aspettative di un sindacato che non si preoccupasse soltanto di far assumere precari e di non far lavorare quelli che lavorano già, che sono già dipendenti dell'amministrazione. Tipico comportamento attuale in questi giorni dei sindacati della scuola. Assumete i precari e non ampliate l'anno scolastico a giugno perché poveri insegnanti saranno travolti dall'eccesso di lavoro che capiterà sulle loro spalle in quel mese. Ecco, e quindi c'era, come dire, si aprì una speranza in qualche modo. Purtroppo la CGL si è rapidamente allineata dopo un decennio alla posizione tradizionale dei sindacati che è diventata semplicemente quella del vogliamo tutto e volendo tutto sono riusciti a ottenere la cosiddetta privatizzazione più correttamente contrattualizzazione del pubblico impiego contrattualizzazione che non ha fatto altro che ripetere all'interno dei contratti tutti quanti gli errori e i difetti della legislazione sul pubblico impiego. Quindi noi adesso abbiamo i difetti della legislazione e i difetti del del contratto o dei contratti del pubblico impiego sommati l'uno all'altro. Per quanto riguarda la seconda domanda è vero che l'imprenditore nella misura in cui motiva il personale ci rimette del proprio insomma decide un'allocazione di risorse tra cui quella che serve a incentivare il personale motivarlo renderlo più produttivo legarlo di più ad azienda e così via. Ma questo avviene diciamo ai livelli alti ai livelli ulteriori ci sono i capi degli uffici i quali hanno una borsa insomma no per dire una dotazione finanziaria che possono distribuire nel pubblico impiego questo è stato ritenuto inconcepibile perché si è sempre ritenuto che ci fossero che diventassero come dire predominanti interessi di parte che si facessero abusi che si fosse qualcuno che se lo metteva in tasca che ci fosse qualcuno che ne faceva soffruire parenti persone legate a clan a clientele e così via cioè è prevalso quell'atteggiamento difensivo che è tipico di tutta la legislazione del pubblico impiego pensate soltanto al modo in cui è stato affrontato il tema della corruzione in Italia e al modo in cui si sono trasferiti il sistema delle sanzioni in materia di mafia alle violazioni delle norme amministrative e penali relative ai dipendenti pubblici alla funzione pubblica come dire un'accettazione di un'equivalenza piuttosto singolare cioè il valore sociale dei reati di mafia il disvalore sociale dei reati di mafia è pari al disvalore sociale dei reati contro la pubblica amministrazione ecco non c'è stata proprio nessuna riflessione sulle graduazioni delle responsabilità e quindi delle sanzioni questo è diciamo la situazione del pubblico impiego sostanzialmente è un un perenne timore che è stato accettuato che vi posso dire dalla gestione cantone dell'ANAC insomma un perenne timore che ha prodotto dei risultati che sono noti insomma codice dei contratti se non ricordo male 220 articoli in circa la metà di questi articoli è menzionato o la parola corruzione o la parola o la sigla l'acronimo ANAC ecco allora ditemi voi la disciplina è una disciplina per fare i contratti o per impedire che si facciano i contratti e questo si lega ad una ad un ragionamento che risale ormai da lungo tempo e cioè che ogni attore della pubblica amministrazione ogni agente della pubblica amministrazione deve essere accompagnato da un angelo custode che si chiama controllo preventivo ora chiunque legga il dibattito che si svolse nell'Ottocento sui controlli della pubblica amministrazione sa che il pensiero liberale italiano è sempre stato contrario ai controlli preventivi i controlli devono essere successivi controllo preventivo parte semplicemente dall'idea che le persone siano si debba avere sfiducia nelle persone e che debbono avere un cogestore perché controllo preventivo vuol dire avere un cogestore insomma questo questo è sostanzialmente e quindi che non ci sia una responsabilità vera individuale che è una responsabilità agisci se sbagli paghi invece cerca il consenso del tuo controllore in modo tale che la tua responsabilità venga attenuata e l'apoteosi di tutto questo è in una norma che per la verità è stata ritenuta di invenzione geniale due anni fa circa in cui la responsabilità penale veniva attenuata se a titolo volontario il dirigente decideva di sottoporre la questione sulla quale doveva decidere al controllo della Corte dei Conti quindi il controllo della Corte dei Conti che è un organo di rilevanza costituzionale veniva attivato sulla base di una decisione del singolo dirigente guardate è una cosa veramente un unicum nella storia del mondo va bene e veniva attivato così casualmente sulla base della sensibilità del singolo dirigente che veniva come il paree di un avvocato di fatto diciamo perfetto ecco mi copro attraverso capito noi siamo arrivati a questo punto e questo è previsto in una legge va bene chi ha fatto la legge no professore da questo punto di vista la voglio terminare chi ha fatto quella legge non gli basta la Siberia va bene non gli basta la colonia penale no è qualcosa di più anche perché con il riscaldamento globale la Siberia rischia di diventare un luogo gradevole quindi bisogna bisogna trovare qualche soluzione alternativa è anche una delle regioni della Russia dove c'è maggiore opposizione a Putin quindi è anche un posto abbastanza liberale secondo me dovremmo trovare di peggio ecco professore la via d'uscita che è stata inventata da questa impossibilità di fare sta nella riproposizione continua di regimi derogatori abbiamo parlato a lungo del cosiddetto modello Genova ma prima del modello Genova c'erano stati tanti altri casi analoghi e verosimilmente ce ne saranno altri nel futuro tanto che qualcuno ha addirittura proposto di generalizzare il modello derogatorio che è una cosa che alla mia mente semplice risulta difficile concepire perché se è una deroga è una deroga se è generale non è più una deroga ma dal suo punto di vista al di là di episodi puntuali nei quali appunto per ragioni del tutto eccezionali un regime derogatorio può avere senso ricostruire un ponte che divide in due una città qual è realisticamente una strada da seguire per superare almeno in parte le difficoltà che lei ha descritto e che esistono e che tra l'altro trovano anche i cui effetti sono stati anche documentati da tanta letteratura empirica e dall'altro però fare salva la compliance con con tutte le richieste che in parte arrivano da direttive da norme europee in parte nascono invece da esigenze nazionali di mantenere dei controlli che siano efficaci ex ante o ex post guardi comincio dalla seconda parte della sua domanda la condizione fondamentale è quello di rispettare Montesquieu e in quel famoso capitolo del che era libro sesto se non mi sbaglio capitolo undicesimo del libro sesto dell'Esprit de l'Oise Montesquieu teorizzava la separazione dei poteri noi oggi abbiamo un regime in base al quale il legislatore è anche amministratore perché si spinge talmente avanti pensate soltanto ai 1500 scusatemi ai 1500 commi della legge di bilancio di quest'anno però però poi insomma qualunque norma aspirando a quello che molti ministri in carica hanno dichiarato essere la loro massima aspirazione cioè di fare delle leggi autoesecutive cioè delle leggi che comprendono il loro lato esecutivo amministrativo spingendosi così avanti diventa un legislatore amministratore che assorbe due dei poteri dello Stato e che quindi diventa onnipotente insomma Montesquieu quando scriveva quel capitolo come tutti sanno il capitolo della Costituzione dell'Angleterra si riferiva all'Inghilterra e si riferiva al momento nel quale si stabilisce come dire il bilanciamento tra potere esecutivo e potere legislativo va bene noi l'abbiamo tutto quanto spostato su quel lato lì quindi quella è la prima permessa meno leggi e meno intralci la legge deve definire i criteri generali deve stabilire i diritti dei cittadini tutelare i diritti dei cittadini e regolare in generale le funzioni se le leggi disciplinano passo dopo passo ogni singolo comportamento della pubblica amministrazione praticamente il legislatore diventa un legislatore amministratore per liberarsi di tutto questo si inventano le norme derogatorie le norme derogatorie sono la cosa peggiore che si possano immaginare creano quello che Piero Calamandrei definiva un regime a doppio fondo quando scriveva del regime fascista perché praticamente le norme derogatorie innanzitutto salvano l'anima di quelli che non cambiano le norme ordinarie perché la soluzione sarebbe c'è una norma che non funziona è troppo vincolante poco efficiente è un intralcio modifichiamola facciamo diventare il percorso normale primo e in secondo luogo danno un ulteriore potere all'amministrazione che di stabilire se bisogna seguire la regola o la deroga non so se quelli che ascolteranno questo podcast allargato possono essere divertiti da un mio episodio di vita vissuta nel 1989 90 Francesco Gossiga presidente della Repubblica che praticamente mi costrinse a fare il presidente dell'autorità per il controllo degli scioperi nei servizi pubblici insistette tanto che io a un certo punto gli disse di sì e dovetti creare questo organismo e questo organismo aveva sede a Palazzo Chigi era un organismo di Palazzo Chigi il mio ufficio temporaneo era nella stanza accanto a quella di Giulio Andreotti che era il presidente del Consiglio dei Ministri e io volevo cercare una sede avere una struttura funzionante di staff e così via e mi recai dal capo della struttura come dire organizzativa al Palazzo Chigi e gli dissi qui bisogna pensare a una sede a degli uffici tutto quello che serve a una struttura funzionante una piccola autorità indipendente e lui disse bisogna mettersi d'accordo con la Corte dei Conti e disse mettiamoci d'accordo con la Corte dei Conti e lui andò dall'altra parte del tavolo sollevò il telefono e disse al controllore della Corte dei Conti ciò qui con me il professor Cassese tu sai che il nostro amico lo stimiamo molto secondo te per questo organismo nuovo gli applichiamo la legge e qui fece il nome di una legge o la legge e qui fece un altro nome o anche la legge o ancora quest'altra norma a lui sarebbe più conveniente fare questo ma forse capito e io mi resi conto di che cosa vuol dire avere tanti regimi derogatori perché quelli erano tutte quante deroghe al criterio ordinario lo Stato ha costituito con una legge un organo quest'organo deve applicare le leggi generali che si applicano a tutti gli organi dello Stato no? questa è la condizione della nostra pubblica amministrazione quindi il Parlamento poi produce un altro effetto disciplinando troppo perché stabilendo disciplinando troppo deve adeguare quello che dice alle possibilità effettive di realizzazione stabilisce delle deroghe ma stabilendo delle deroghe da poi mano libera l'amministrazione quindi quel vincolo che prima stabiliva viene allentato con una possibilità di scelta che viene conferita nella misura in cui esistono doppi fondi perché i doppi fondi consentono di fermarsi prima o dopo o dopo ancora ecco l'amministrativizzazione del Parlamento l'hai avvocato però potremmo dire parallelamente la parlamentarizzazione del governo quantomeno ha capacità di produrre atti aventi forza di legge ma anche atti non aventi forza di legge che però hanno costruito sto pensando soprattutto all'ultimo anno il diritto che tutti abbiamo subito volenti o inolenti mentre lei fin dall'inizio di questa nostra chiacchierata ha sottolineato le debolezze del Parlamento anche come punto come prospettiva da cui guardare anche i problemi della pubblica amministrazione forse al di là di andare a vedere le singole disfunzionalità delle singole pubbliche amministrazioni forse per risolvere questo annoso storico problema della ipertrofia anche amministrativa della burocrazia italiana forse dovremmo smetterla di guardare appunto la pubblica amministrazione e guardare di più al Parlamento un po' per quello che dice lei un po' quello che ha detto lei fin dall'inizio ma aggiungo appunto la debolezza del Parlamento di fare il proprio ruolo di assumere le decisioni politiche tramite legge e debolezza che si vede appunto nella supplenza del governo ma anche mi permetto di dire anche a lei che ha avuto esperienza è stato giudice in corte la supplenza soprattutto in materia di diritti civili la supplenza del giudice giudice delle leggi o giudice ordinario che sia quindi ecco forse alla fine di questa chiacchierata torniamo a casa con il suggerimento di smettere di guardare il braccio esecutivo e iniziare a rivolgerci più verso il braccio legislativo per capire le disfunzionalità del primo guardi in parte è vero diciamo il Parlamento in larga misura è oggi un organo di ratifica ci sono delle statistiche molto chiare l'iniziativa parlamentare è ridottissima le leggi che vengono approvate sono se non ricordo male le statistiche per il 75% ma credo anche di più proposte fatte dal governo non dai membri del Parlamento questo è il primo aspetto il secondo aspetto che ha riguardato l'anno che appena trascorso è costituito dal fatto che a sua volta il governo proponente di quelle leggi è diventato a sua volta un organo di ratifica di decisioni prese dai capi delle delegazioni dei partiti e queste sono state due come dire malformazioni la prima che deriva da qualche anno la seconda che si è accentuata nell'ultimo anno e tutto questo cade sulla testa della pubblica amministrazione di un'amministrazione che in generale è impreparata cerchiamo di vedere sempre dei numeri e dei dati di fatto noi abbiamo il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e qualunque persona potrebbe pensare che questo ministero essendo delle infrastrutture e dei trasporti abbia per due terzi del personale tecnico per un terzo personale amministrativo è il contrario due terzi sono personale amministrativo e un terzo è personale tecnico ditemi voi come si possono fare oggi non dico i ponti ma i controlli sui ponti capito e perché questo è il problema perché l'amministrazione fa sempre di meno perché fa di meno perché non sa fare perché non è motivata a fare e perché si dota di organizzazioni periferiche io ho scritto di recente un articolo intitolato lo stato ad amministrazione disaggregata come contrapposto allo stato ad amministrazione compatta e oggi di fatto se voi andate a vedere qualunque ministero secondo voi la valutazione del livello di istruzione chi lo fa? Lo fa l'invalsi chi fa la valutazione delle ricerche scientifiche? La fa l'AMBUR ma che cosa sono gli invalsi a l'AMBUR rispetto al ministero dell'istruzione delle organizzazioni satelliti va bene quindi l'amministrazione non sa fare fa fare ad altri e a furia di far fare non sa più che cosa deve fare capito? Per cui noi abbiamo anche dei concorsi per idee progettuali che cosa vuol dire? Vuol dire che tu non c'hai un'idea nella testa e non è che ti rivolgi ai terzi per fare i progetti ma per avere l'idea del progetto che bisognerebbe fare capito? Che bisognerebbe realizzare insomma decenni di incuria disattenzione aggiramenti legislazione che sostanzialmente assorbe funzioni amministrative hanno prodotto questa situazione e di qui naturalmente poi le lamentele no? Vincenzo Visco che lamenta che c'è il diritto amministrativo Romano Brodi cito due persone di cui ho grandissima stima ma le cui affermazioni non condivido Romano Brodi dice alla risoluzione di tutto starebbe nella soppressione dei tar sono affermazioni come dire mitologiche non è che il diritto amministrativo come è noto è nato come strumento del principe ma poi si è evoluto come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e se non ci fosse diritto amministrativo se mi viene fatta una multa illegalmente io non saprei a chi rivolgermi no? E questo è il diritto amministrativo se vengo bocciato a un concorso in maniera illegittima a chi mi rivolgo? Posso farle un'ultima domanda un po' provocatoria visto che siamo in casa liberale? e se non fosse da togliere il diritto amministrativo o i giudici del diritto amministrativo ma un po' di diritto amministrativo e cioè se il problema non fosse che c'è troppa ci sono troppe funzioni dello Stato e degli enti territoriali e quindi il la principale il principale veicolo di semplicità sia quello di ridurre le cose le funzioni che lo Stato e gli enti territoriali fanno penso anche rispetto al reclutamento nella pubblica amministrazione un conto è che ce ne siano questa è un'ambizione che è un'ambizione che abbiamo noi a Bruno Leoni ma fa parte della storia del diritto amministrativo e nello stesso tempo ne fa parte l'ambizione opposta va bene la riduzione del perimetro dell'azione statale della funzione statale e pensi un momento facciamo un esempio concreto e la liberalizzazione dei commerci è stato qualcosa che è stato aspicato da tanti anni i vari gatti l'organizzazione mondiale del commercio gli accordi di Marrakesh però poi a un certo punto la gente ha la preoccupazione che l'industria che posso dire di telecomunicazione di un paese diventi prigioniera degli investimenti di altri paesi e di potenze di altri paesi e quindi viene introdotta la golden share dopo essere introdotta la golden share c'è il copasire che si sveglia e dice che c'è un ulteriore pericolo che riguarda altri settori e viene allargato il perimetro della golden share la golden share è semplicemente una nuova funzione dello Stato e se lei vede il modo in cui è progredita la golden share in tutti questi anni si rende conto che questa progressione e si vede come viene esercitato il potere della golden share ci sono delle relazioni in Parlamento provi a leggerle quelle relazioni con tutti i poteri che sono stati esercitati quindi diciamo bisogna realisticamente rendersi conto che procedono parallelamente l'esigenza di riduzione del perimetro e l'esigenza o qualche volta le finte esigenze di ampliamento del perimetro dell'azione statale e quindi rendersi conto dei giusti equilibri che bisognerebbe stabilire tra libertà e autorità il diritto amministrativo questo è scritto nel manuale del 1950 del mio maestro Massimo Severo Giallini ha al suo centro l'equilibrio tra libertà e autorità questo è il diritto amministrativo va bene e il problema è di stabilire un equilibrio tra questi tra questi due poli se poi appunto Vincenzo Visco si imbatte contro il diritto amministrativo per un motivo che è chiaro e che è chiarito anche in quel suo articolo e lui voleva come ministro delle finanze che i dipendenti delle finanze guadagnassero di più e ha creato le agenzie le agenzie fiscali e io mi opposi all'inizio poi gli detti atto che forse lo stesso obiettivo si poteva raggiungere perfettamente prevedendo per via contrattuale tutto questo poi l'agenzia delle finanze hanno improvvidamente deciso di promuovere tutti i livelli superiori per dare benefici salariali la corte costituzionale si è opposta perché ha fatto valere il principio costituzionale che si accede alle funzioni pubbliche mediante concorso e questo braccio di ferro iniziato parecchi anni fa continua e siamo sempre allo stesso punto capito? e allora il problema è realisticamente capire quali sono le forze in gioco e non essere prigionieri di mitologie ecco grazie professore allora noi chiudiamo ci ha fatto capire che come sempre insomma non ci sono soluzioni semplici a problemi complessi bisognerebbe studiare e cercare di evitare le scorciatoie ma utilizzare meglio ciò che si ha e soprattutto cercare di capire come funziona ancora grazie al professor Sabino Cassese che è stato con noi a Leoni Paese grazie a Carlo Stagnaro e al senato Ileoni e alla prossima grazie ancora professore grazie dottore arrivederci arrivederci a apostolino a apostolino Grazie a tutti.